Sarà una domanda che il tradurre un'idea, il tradurre un concetto, i vari punti di vista sono interessanti visto che l'idioma, che non lo condividiamo, noi parliamo italiano e lei parla russo abbiamo una meravigliosa traduttrice che è una linguista, una scrittrice, un'interprete e poi ci diamo il benvenuto anche a Elena Mazzoli Sarà interessante capire come tradurre Allora, io vi do il buon divertimento perché mi piace pensare che ci si possa divertire anche parlando di Dostoevsky e non solo di calcio Non lo devo E vi dico solo che adesso ho insieme e leggerò un testo che sarà l'inizio dell'evento Perciò non mi sento sentirebbe una voce, non mi sento sentirebbe una voce, non mi sento sentirebbe una voce, non mi sento sentirebbe un testo e vi chiediamo di ascoltarlo Se parlo così mi sentite avvicino di più Meglio così Conclusione del nostro discorso sul popolo Allora non avevo che nove anni No, no Meglio cominciare da quando ne avevo ventinove Era la seconda festa di Pasqua L'aria era tiepida Il cielo era azzurro Il sole alto, caldo, chiaro Ma il mio animo era molto cupo Vagabondavo dietro le case matte Guardavo contandoli i pali della solida stecconata della prigione E non avrei voluto neppure contarli ma avevo ormai l'apitudine Era già il secondo giorno che si faceva festa nella prigione I forzati non erano condotti al lavoro C'erano moltissimi ubriachi E a ogni istante, ad ogni angolo, partivano ingiurie Si accendevano litigi Orribili Disgustose canzoni Gioco di carte sotto le panche Alcuni forzati già a mezzi morti per le pastorate ricevute A causa di qualche particolare violenza dagli stessi compagni E ora coperti di pellicce di montone Giacenti sulle panche Finché non fossero tornati in sé E riconciliati tra loro I coltelli, già parecchie volte, erano stati tirati fuori Tutto questo, nei due giorni di festa Mi aveva straziato fino a farmi sentire male Non ho potuto sopportare mai, senza disgusto La gozzoviglia della gente ubriaca E qui, in questo luogo, meno che mai In quei giorni, nemmeno i superiori venivano nella prigione Non si facevano perquisizione Non si cercavano i reprobri Perché, diversamente, sarebbe stato peggio Finché si accese l'ira nel mio cuore Incontrai un polacco, tale Unki Del reparto politici Mi guardò Tedro I suoi occhi lampeggiarono E le sue labbra cominciarono a premare «Je, eh, c'est brigant!» Mi disse a mezza voce Con i denti stretti E passò oltre Tornai verso la casa matta Benché, un quarto d'ora prima Ne fossi scappato come impazzito Quando in sei, forti e grossi Si erano gettati tutti insieme Sul tatalo ubriaco Gazin Per calmarlo E avevano cominciato a picchiarlo A picchiarlo in modo assurdo Tanto da ammazzare un cammello Ma essi sapevano che quell'Ercole Era difficile ammazzarlo E perciò picchiavano senza paura Rientrato Notai in fondo alla camerata In un angolo Su di una branda Gazin Già privo di sensi Che non dava quasi segno di vita Giaceva lì col tulup addosso E tutti gli passavano silenziosi davanti Sebbene sperassero fermamente Che l'indomani mattina Sarebbe ritornato in sé Pure per simili botte Non si sa mai Un uomo può anche morire Arrivai al mio posto Di fronte alla finestra con inferiata E mi sdraiai su Pino Con le braccia sotto la testa E gli occhi chiusi Amavo stare così Perché uno che dorme Lo si lascia tranquillo E intanto può sognare e pensare Ma non mi venne fatto di sognare Il cuore batteva inquieto E negli orecchi risuonavano Le parole di un chi Che è Se applicano Del resto Perché descrivere queste impressioni? Anche adesso a volte Io sogno quel tempo E non ho sogni più tormentosi di questi Forse qualcuno avrà notato Che fino a oggi Io non ho quasi mai parlato pubblicamente Della mia vita all'ergastolo Le memorie da una casa di morti Io le scrissi 15 anni fa In nome di una persona inventata Di un delinquente condannato Per un sorricidio A questo proposito Noto tra parentesi Che ancora oggi Molti pensano e dicono Che io fui deportato Per aver ucciso mia moglie A poco a poco Riuscii ad estranearmi E impercettibilmente Mi sprofondai nei ricordi Durante i quattro anni di ergastolo Non facevo che pensare Continuamente al mio passato E nei ricordi Revissi Tutta la vita di una volta Questi ricordi Sorgevano da sé Solo raramente Li rievocavo Dalla mia volontà La cosa aveva inizio Da un punto qualunque Da un particolare Spesso insignificante E poi A poco a poco Si formava un intero quadro Un'impressione Forte e completa Analizzavo queste impressioni Aggiungevo Nuovi tratti A quello che avevo Da tempo vissuto E soprattutto Correggevo Correggevo continuamente Il quadro stesso Ciò Formava il mio divertimento Questa volta Chissà perché Mi ricordai A un tratto Di un momento Insignificante Nella prima infanzia Di quando Avevo solo Nove anni Un momento Che sembrava Del tutto dimenticato Ma allora Amavo in particolare Modo I ricordi Della prima infanzia Mi ricordai Del mese di agosto Della nostra campagna Un giorno secco E chiaro Ma piuttosto Freddo e ventoso L'estate Era alla fine E ben presto Avremmo dovuto Ritornare a Mosca Ad annoiarci Tutto l'inverno Con le lezioni Di francese E io Soffrivo tanto A lasciarlo a campagna Andai dietro l'aria Mi calai nel burrone E risalii All'affitta Bassa boscaglia Di cespugli Che si stendeva Dall'altra parte Del burrone Fino al boschetto Mi inoltrai Sempre più Nella boscaglia E sentii Come non lontano A trenta passi da me Nell'area dura Un music Stava arando Io so Che egli Ara intorno Alla collina E il cavallo Avanza a fatica E di tratto In tratto Arriva fino a me Il grido Nu Nu Io conosco Quasi tutti I nostri musichi Ma non so Chi di loro Sta varando ora E non me ne importa Sono tutto Immerso nel mio lavoro Perché Anch'io Sono occupato Sto preparando Un fustino di noce Per frustare le rane I fustini di noce Sono così belli E così fragili Per niente da paragonare A quelli di Betulla Mi tengono occupato Anche gli insetti E gli scarabelli Ne fa collezione Ce ne sono molti carini Amo anche le piccole Agili lucertole Giallorosse Con le macchioline nere Ma dei serpentelli Beh Ho paura Del resto Di serpentelli Ne capitano molto raramente Molto più raramente Delle lucertole Funghi Ce ne è pochi Per trovare i funghi Bisogna andare nel boschetto Di Betulla E proprio là Non ci voglio andare Niente nella vita Amavo quanto il bosco Con i suoi funghi E le bacche selvatiche Con i suoi insetti E gli uccellini Con i suoi ricci E gli scogliattoli E quell'umido profumo Tanto caro Di foglie marcenti Anche adesso Mentre scrivo Mi par di sentir L'odore Del nostro boschetto Di Betulla Sono impressioni Che restano Per tutta la vita Ad un tratto In mezzo alla profonda calma Sentii chiaro Ed istinto Il grido Viene il lupo Cacciai un urlo E fuori di me Dalla paura Gridando Con tutta la mia forza Corsi sul prato Direttamente Verso il music Che era là Era questo Il nostro music Marei Non so se esiste Un tal nome Ma lo chiamavano Marei Un contadino Sui cinquant'anni Forse Abbastanza alto Con molti peli bianchi Sulla folta barba Di un colore castano scuro Lo conoscevo Ma fino ad allora Non avevo avuto Quasi mai Occasione di parlargli Egli fermò la cavallina Udendo il mio grido E quando io Di tutta corsa Gli afferrai Con una mano Sua ratro E con l'altra Una manica Notò il mio spavento Viene il lupo Gridai insimando Ed egli alzò la testa E si guardò Involontariamente attorno Credendomi per un istante Dov'è il lupo? Hanno gridato Qualcuno ha gridato Viene il lupo Balbettai Ma no Ma no Ma che lupo Ti è sembrato Vedi Che lupo può esserci qua Disse egli in fretta Per farmi coraggio Ma io tremavo tutto E mi attaccai Ancora più forte La sua giacca E probabilmente Ero molto pallido Egli mi guardava Con un sorriso inquieto Evidentemente Intimorito ed allarmato Per me Come ti sei spaventato E scosse la testa Basta caro Via Ragazzino Tese la mano E mi accarezzò la guancia Beh basta Che Cristo Siamo in te Calmati Fatti il segno della croce Ma io Non mi feci il segno della croce Mi trovavano gli angoli Delle labbra E a quanto pare Questo lo compì Più di tutto E gli stese ad agino Il suo grosso dito Con l'unghia nera Di terra E toccò delicatamente Le mie labbra Che sussultavano Ma guarda un po' Mi sorrise Con un sorriso Lungo E materno Signore ma cos'è E Compresi finalmente Che il lupo non c'era E che il grido Viene il lupo Me lo ero immaginato Il grido del resto Era stato così chiaro e preciso Tali gridi Non soltanto per i lupi Mi era sembrato Lugli di già due o tre volte prima E lo sapevo Poi con l'infanzia passò Beh ora vado Dissi guardandolo Con un timido sguardo Intolerativo Va Io ti guarderò Non ti darò il lupo Sta tranquillo Aggiunse Sorridendo sempre maternamente Che Gesù sia con te E fece il segno della croce Su di me E su se stesso Andai via Voltandomi indietro Ogni dieci passi E Marei Mentre mi allontanavo Stava sempre lì Con la sua cavallina E mi guardava Facendo un segno con la testa Ogni volta che mi voltavo Confesso Che mi sentivo un po' mortificato Davanti a lui Per essermi tanto spaventato Ma camminavo Temendo sempre un po' il lupo Finché Non lasciai la colinetta Del burrone Fino al primo granaio Qui la paura scompargo Completamente E a un tratto Chissà di dove Mi si gettò incontro Il nostro cane da guardia A Warcock Con Warcock Mi feci coraggio Del tutto E mi voltai Per l'ultima volta Verso Marei Non potevo più distinguere Bene il suo viso Ma sentivo che Egli Continuava a sorridermi Affettuosamente E a far Cenni Con la testa Gli mandai un saluto Con la mano Anche lui Mi salutò con la mano E mosse la cavallina Nu! Nu! Si udì di nuovo La sua voce Da lontano E la cavallina Tirò di nuovo L'aratro La cosa Mi venne in mente Tutto a un tratto Non so perché Ma con sorprendente Precisione di dettagli A un tratto Tornai in me E mi sedetti Sulla panca E il rammento Sentii sul mio volto Il dolce sorriso Del ricordo Per un istante Ancora Continuai a ricordare Allora Tornato a casa Non raccontai A nessuno Della mia avventura E in realtà Quale avventura Anche di Marei Mi scordai presto Allora Incontrandolo in seguito Qualche volta Non gli parlai mai E non soltanto Del lupo Ma di niente In generale Improvvisamente Vent'anni dopo In Siberia Mi ricordai Del nostro incontro Con tanta chiarezza Vuol dire Che esso Era rimasto Nel mio animo Così Da sé Senza volontà Da parte mia E il ricordo Era tornato Quando occorreva Mi ricordai Del dolce sorriso materno Del povero Music Servo della gleva Dei suoi Segni di croce E dei suoi cieni Col capo Ma guarda Come si è spaventato Il ragazzino E particolarmente Quel dito grosso Sporco di terra Col quale Dolcemente E con timida Tenerezza Egli Aveva sferato Le mie labbra Tremanti Certo Chiunque Avrebbe fatto coraggio A un bambino Ma in quell'incontro Solitario Pareva essere Accaduto qualcosa Di completamente Diverso Che se fossi Stato suo figlio Egli non avrebbe Potuto guardarmi Con uno sguardo Splendente Di un amore Più sereno Chi lo obbligava Egli era Un nostro servo Io ero Un suo signorino Nessuno avrebbe Mai saputo Come egli Mi aveva carezzato E non l'avrebbe Ricompensato Per questo Amava forse Tanto i piccoli bambini Esiste gente così L'incontro Era avvenuto In un campo deserto E forse Soltanto Dio Aveva visto Di lassù Di quale Sentimento profondo Illuminato Ed umano Il quale Delicata Quasi femminile Tenerezza Poteva Essere colmo Il cuore Di un music Russo Rozzo E bestialmente Ignorante In quale Allora Non aspettava E non prevedeva Neppure La propria libertà Dite Non è questo Che intendeva dire Costantin Akshakov Parlando Dell'alta cultura Del nostro popolo Ed ecco Quando mi alzai Dalla branda E mi guardai attorno Lo ricordo bene Sentia un tratto Di poter guardare Quei disgraziati Con uno sguardo diverso E che D'improvviso No Per miracolo Erano scomparsi Completamente Ogni odio E ogni cattiveria Nel mio cuore Andai Fissando le facce Che incontravo Questo music Rasato Svillaneggiato Ubriaco Con le cicatrici Sul viso Che urla La sua canzone Rauca Ed ebra Potrebbe essere Lo stesso Marei Non gli vedo Certo nel cuore La sera stessa Incontrai di nuovo Mxì Disgraziato Egli Certo Non avrebbe potuto Avere il ricordo Di un qualsiasi Marei Non avrebbe potuto Avere Altra opinione Di questa gente Che quella Espresso Questi polacchi Dovettero soffrire Allora Assai Più di noi altri russi Iniziamo il nostro lavoro E iniziamo così Io farei delle domande A chi desidera rispondere A chi lo desidera Chiederei di dire Qualche parola In risposta a una domanda Di cosa parla Su che cos'è Questo racconto Di cosa parla Di per sé Facendo un lavoro Dovremo rispondere Tutti a questa domanda Ma visto che siamo In tanti Basta che risponda qualcuno Facciamo così Noi possiamo Sì E noi Siamo E gli altri Semplicemente Quelli che non parlano Possono Paragonare Quello che Diranno gli altri Con i loro pensieri Ma intanto Tutti quelli Che lo desiderano Possono parlare Per questo Prego Se c'è qualcuno Che desidera Subito intervenire Ma è meglio Non pensare Troppo a lungo Perché abbiamo Anche poco tempo E non bisogna Sareare D'unico Sareare D'unico E non occorre Che se ne parli Prima tra noi Parlare fra noi Decidere Di che cosa È il racconto Prima Deve trattarsi Esclusivamente Di quello Che uno Pensa Personalmente Prego Se vuoi Sì Ma Parlo Un po' più Grazie G ha Un po' più Che O Gia Spezia Ne Rute E Mo' Come Come Spezia vedete vici e e, magari, non è proprio reale. Grazie mille. La... c'è una storia di l'ambiente, perché si comparavano con la musica e le piazioni, perché in un modo e liceo possono essere diversi aspetti. Bello. Qualcuno è? Prego. Rascade o l'ambiente e o la dolcezza delle ricordi. E o la dolcezza delle ricordi. E o l'ambiente delle ricordi. L'amore di qui per qui. E mi mi piace molto. C'è una parola matrimoniale. È un grosso ragazzo, come la mamma. La mamma è sempre una associazione, una associazione, con la cui si può riuscire con l'ambiente. Grazie veramente. E chi è? Prego. Mi ha parassato la ultima frase. Mi sembrava, che è un senso di tutto. È un bellissimo matrimoniale, che ha aiutato a capire un altro sensore del corpo. Cioè, mettereci nei plani di mandare, mettereci in condizioni di condizioni di condizioni di condizioni. L'ultima frase intende dire quando Dostoevsky dice questi polacchi hanno sofferto molto più di noi. dei prezzi. C'è qualcun altro? Dostante. 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 e nirrazione all'esti e l'occasione e l'occasione e ciò che non è ancora qualcuno altro ancora? mi parla la differenza tra l'occasione e l'occasione e l'occasione a fare un po' meglio puoi prendere un po' meglio? perché Dostoyevsky in modo in cui va avanti esistono 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 all'estero si esistono 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 potremmo non ci sono un'altra cosa in cui si può essere un'altra cosa in cui si può essere un'altra cosa ok e chi è l'ultimo? che il fatto che il fatto che la paura, la paura, la paura e la nascita, possono essere vedi in campagna. Perché in fine dice che il suo figlio, che il suo sentimento, che gli altri il grado e grazie a che cosa aveva potuto guardare a col desgrazati per un'ossguardo diverso grazie a che sul nello è che l'ho utessione quando è molto bello se c'è ancora qualcuno che desidera molto intervenire è stato. grazie mille Allora proviamo a prestare attenzione a quello che abbiamo appena sentito dopo aver ascoltato la lettura del racconto e valutiamo anche solo semplicemente quanto le cose che sono state dette erano diverse tra loro e proviamo anche a rispondere dentro di noi a questa domanda quanto ho sentito nelle parole degli altri che sono intervenuti qualcosa che per me era assolutamente inaspettato perché io ho preso appunti ho scritto tutto quello che avete detto e se noi osserviamo quello che è stato detto tutte le cose che sono state dette riguardavano aspetti diversi del testo e questo innanzitutto che cosa ci dice ci dice che su qualsiasi cosa su qualsiasi opera in questo momento l'opera in questione per noi è il nostro testo ma noi possiamo approcciarci a qualsiasi cosa qualsiasi opera trovandoci a causa in forza della vita che abbiamo vissuto precedentemente davanti a quel qualcosa in una posizione diversa da quella degli altri noi ci accordiamo a quello che abbiamo davanti in modo diverso ci accordiamo proprio nel senso di come si accordano gli strumenti musicali perché tutti gli avvenimenti della nostra vita precedente in una certa maniera ci hanno portati a vedere le cose in questo momento in un certo modo e ad avere la tendenza a spiegare le cose proprio in quel determinato, in quel certo modo ora che cosa c'è da quello che è vero? allora adesso proviamo a vedere quanto corrette sono state le vostre affermazioni, quello che avete detto provate voi a dire quanto quello che hanno detto gli altri secondo voi era adeguato, se c'è qualcosa in cui eravate d'accordo, qualcosa in cui invece non vi siete trovati d'accordo, del tutto d'accordo. Stiamo parlando, pensiamo solo al racconto. Più difficile. Guardate, non c'è neanche nessuno che desideri rispondere a questa domanda, perché? Perché? Perché ogni gente, в зависимости от опыта, vedete e sentite diverse cose. Quindi non possiamo dire. Per me è più importante, perché è più importante, perché l'onorevole è un'opera, ma l'opera di ogni gente è un'opera. Grazie. Grazie. Perfetto, bellissimo. Cioè, cosa è stato detto adesso? È stato detto che tutto quello che abbiamo sentito è assolutamente vero, nel senso, in quanto è innesso diretto con l'esperienza della persona che l'ha detto, che l'ha affermato. E così noi ci troviamo in difficoltà anche semplicemente a provare a applicare quello al testo. Cioè, quello che è stato detto è assolutamente vero, quello che una determinata persona ha detto è assolutamente vero, perché è quello che quella determinata persona ha visto. Ma non abbiamo trovato in noi stessi la possibilità, come se non avessimo la misura per... per dire quanto qualcosa è davvero in rapporto con il testo stesso. E questa è una sensazione assolutamente vera, corretta. Perché, in generale, quando noi iniziamo a parlare del testo, dopo averlo letto una volta, innanzitutto quello di cui parliamo sono le sensazioni che il testo ha suscitato in noi. Cioè, tutte le affermazioni, tutte le cose dette sono molto importanti. Ma, inizialmente, l'importanza delle cose dette è nel farci capire lo stato d'animo, la condizione della persona che le ha dette. Cioè, la prima cosa che ci porta una riflessione, un giudizio su qualcosa di cui si sta parlando, che si tratti del testo, del lavoro, di un avvenimento, è un giudizio su chi pronuncia quelle parole, su chi pronuncia quella affermazione. Quindi, prima cosa, attraverso quelle parole, quelle affermazioni, noi capiamo qualcosa su chi la pronuncia, su chi parla. Dopodiché, facciamo fatica a dare un giudizio sulla correttezza, su quanto sia giusto quello che è stato detto. Perché noi stessi abbiamo avuto una nostra impressione dal testo. E noi abbiamo una nostra certezza, sicurezza, sul fatto che il testo parlasse proprio di quello che è stata la nostra impressione. È vero o no? È vero o no? Ok, c'è il prossimo passo. Va bene, c'è un passo successivo. Di per sé, per capire e passare alla fase successiva di lavoro, A un certo punto, noi dovremmo leggere il testo una seconda volta. Ma già a questa prima fase, a questa prima tappa, possiamo usare due strategie. Innanzitutto, potremmo iniziare a litigare e a insistere sul nostro punto di vista. Io ritengo che questo testo parli proprio di questo, io penso, ritengo che parli proprio di un'altra cosa. E in questo spore e in questa discussione, Facendo così, di nuovo, verremo a scoprire molte, moltissime cose gli uni sugli altri. In questo modo, se noi, che si tratti del processo dell'insegnamento o di un lavoro di team, di squadra, Se noi, lavorando insieme, abbiamo bisogno di conoscere qualcosa sulle persone con cui lavoriamo, Questo è un metodo che funziona bene, un metodo molto buono per farlo. Se lavoriamo con un testo, Ci fermiamo alla prima lettura del testo E poi ci mettiamo a discutere del testo e vediamo cosa accade in questa discussione, dialogo comune sul testo. Di solito accadono discussioni molto calde. E accade così anche se stiamo parlando di cose che possono essere abbastanza indifferenti. Prendiamo all'inizio cose che non dovrebbero così scaldarci, che non sono particolarmente importanti. Che cosa? Qual è la causa di questo scaldarsi, anche se all'inizio c'era qualcosa che c'era del tutto indifferente? C'era qualcosa che per noi è evidente e che c'era indifferente. C'era qualcosa che per noi è evidente e che per noi è indifferente. Ma tutti lo vedono in modo diverso, in un altro modo. Di per sé, a tutti noi è stato detto che le persone sono tutte diverse. Ma in realtà questa cosa ancora adesso è una cosa che quando noi la riscontriamo, quando ci imbattiamo nella sua realtà è una cosa che ci stupisce, che stupisce tutti. Davanti a questa diversità tra le persone ci si può comportare in due modi. Si può vedere il punto di vista dell'altro come un qualcosa che ti limita, che ti restringe. Come il fatto che qualcuno ti sta pestando il piede sopra quello che è il tuo giudizio. Come se un altro, proponendo uno sguardo completamente diverso, uccidesse il tuo sguardo. Di discussioni, litigi così, nei mezzi di comunicazione sociali, in internet, ne vediamo quasi ogni giorno. E perché questo è così particolarmente visibile, perché litigi così, sono così tanto frequenti, presenti in internet, nelle... Come si dice? Come si dice? Nei social. Già, grazie. Perché lì, nei social, la persona è rappresentata letteralmente dalla sua affermazione, da una sua affermazione. Cioè, lì che, in modo sommamente evidente, accade quel qualcosa che accade comunque sempre, ma noi non vediamo in modo così chiaro. E cioè, il fatto che noi identifichiamo noi stessi con il nostro punto di vista. Noi identifichiamo noi stessi con il nostro giudizio. Dopodiché, allora, noi iniziamo a difendere il nostro giudizio come se si trattasse di difendere il centro stesso della nostra persona. Ma può esserci anche una tattica completamente diversa. Ed è quando noi vediamo l'affermazione dell'altro Il giudizio dell'altro non come una contraddizione, un contraddire quello che diciamo noi. Ma come qualcosa che completa, di complementare a quello che diciamo noi. Se noi capiamo che siamo giunti tutti a quel dialogo su un qualcosa, su un'opera, su un avvenimento, su un testo. Se noi capiamo che siamo giunti a quella discussione con un nostro punto di vista che si è formato a seconda di chi siamo noi. Se noi ci rendiamo conto che ognuno di noi sicuramente ha dei punti ciechi, dei punti che non riesce a vedere. E se noi capiamo quindi che se è così, l'altro non ci limita, non ci restringe. Ma al contrario ci offre un punto in più da poter vedere. Ci offre la possibilità di vedere anche attraverso i suoi occhi. E così appunto non ci limita, ma al contrario ci amplia. Ci permette di crescere. E la cosa fondamentale è che l'altro così ci permette di vedere qualcosa che noi senza di lui, senza il suo aiuto, non avremmo notato. Allora adesso facciamo così, provo a rileggervi le affermazioni che avete detto voi, quelle che avete detto voi, quelle che avete detto voi qui sul testo. E allora voi vi accorgerete che queste vostre affermazioni andranno a comporre delle varianti che non entrano in conflitto tra loro, non entrano in contraddizione. Ma si troveranno ad essere in un rapporto di complementarietà che amplia, allarga il significato. o in senso proprio di estensivo o in senso della sua profondità, lo completano nel profondo. Allora io vi avevo fatto questa domanda, di cosa tratta, di cosa parla il racconto. Voi avete detto di dei carcerati e della modalità di vedere le cose, di vedere la realtà, di vedere una realtà, poi è stato detto anche che non è proprio, non è sempre reale, non è sempre la realtà. Cioè noi è stato detto come se vedessimo che con la realtà accade qualcosa, davanti ai nostri occhi accade qualcosa di particolare. Cioè non riusciamo come a dire a quale livello di profondità si può fissare questa è la realtà. Poi è stato detto sulla duplicità dell'animo umano. Cioè è come se una stessa persona Cioè è come se una stessa persona Può, prima, воспринимare l'animo umano Possa, innanzitutto, cogliere l'altro, sentire l'altro in diversi modi E in secondo luogo, manifestare sé, comportarsi con l'altro in diversi modi Poi è stato detto, questo racconto parla dell'amore e della dolcezza del ricordo E' stata sottolineata l'importanza della parola maternità E questo è un punto molto centrato, in modo impressionante Perché è vero che nel racconto tutto tratterà in un modo o nell'altro sempre di questa femminilità del maschile Poi è stato detto che il racconto parla di come il ricordo ha aiutato a capire il problema di un'altra persona Poi della complessità e razionalità del pensiero umano Poi della differenza tra quello che è apparente e quello che è reale, l'essere Del fatto che nell'uomo può esserci qualcosa che non si vede Non solo a prima vista Ma anche con quella che è la nostra vista solita, semplicemente non si vede Del fatto che la rabbia, l'ira, l'ingiustizia Possono essere sconfitte grazie al fatto che nella nostra vita è accaduto l'incontro con qualcuno E cioè che sono sentimenti che vengono sconfitte tutti insieme ho grading Quando siamoney Ou perché no O quando significano i sensi Ma siamo sempre Quando siamo insieme, concentrano in coincidenza Quando siamo siamo insieme periodo si sono sconfitte questi sentimenti Ho fatto essere isolato Quando siamo insieme Questi tipi di passione, di sentimenti ci afferrano, ci prendono e ci sconfiggono. E ancora è stato detto del fatto che la paura è qualcosa che va a costruire davanti a noi una realtà che non c'è, un'altra realtà che non c'è, qualcosa che non c'è. E per questo la paura è il nostro più grande pregiudizio. Guardate, su qualsiasi di questi giudizi si può rispondere sì. Sì, questo racconto è su questo, questo, questo e questo. Ed è assolutamente esatto, corretto dire che noi da soli, tanto più, solo dopo una prima lettura, non avremmo messo insieme, non avremmo realizzato tutto questo cerchio, circolo. Ecco, questo circolo di persone che si trovano intorno a un testo o a un'opera è una cosa estremamente importante. Noi potremmo ritenere che qualcuno dei presenti, di coloro che partecipano a questo circolo, non è abbastanza qualificato. Potremmo ritenere che qualcuno dei presenti è una persona spiacevole. E per questa ragione potremmo lasciare scorrere le sue parole senza prestarvi attenzione. Io credo che la cosa molto importante è che non c'è nessun punto ma io ritengo che qui sia una questione importantissima il fatto che in questo non c'è nemmeno un punto da cui non si potrebbe vedere qualcosa che non c'è nessun punto da cui non si possa vedere qualcosa che non è accessibile da tutti gli altri punti. Ora io vorrei fare questo. Vorrei fare alcune correzioni al testo che è stato letto perché abbiamo ascoltato un testo in traduzione. e la traduzione sempre perde qualcosa, salta qualcosa, non tiene in considerazione qualcosa che è molto importante per il testo. La prima correzione Ne faccio almeno due per adesso. La prima correzione quando il contadino mi sembra meglio ti sei spaventato, ti sei spaventato, ti sei spaventato? E poi ci sei spaventato, ti sei spaventato, ti sei spaventato. Si usa una parola, la parola che in italiano è stata tradotta con caro, che indica una parentela. una parola che potrebbe essere quella con cui una mamma si rivolge al suo bambino proprio per il fatto che lei l'ha partorito. In questa parola, nella parola russa, si sente la parola che è il parto. In russo sono tutte parole che hanno una stessa radice. Cioè, qui sta dicendo qualcosa, il contadino, Mariei, dice qualcosa che non è proprio quello che abbiamo sentito in traduzione. Anche se nel suo senso superficiale la traduzione è assolutamente corretta. Questa è la prima cosa. La seconda cosa è il nome del cane. Tutto è scritto che il cane si chiama Valciok. E' vero che si chiama così, ma Valciok in italiano è il diminutivo russo della parola lupo, sarebbe lupetto il nome che hanno dato al cane. E allora potete capire che Se entra questo nome lupetto, il testo subito acquista delle nuove caratteristiche, dei nuovi tratti. Se sappiamo che il cane si chiama Valciok, se sappiamo che il cane si chiamava Lupetto. E perché questo è importante nel racconto che parla di contadini e forzati, prigionieri? Per favore. Per favore. Prego. Per favore. Non il fatto che voi parliate tra voi e arriviate a dire qualcosa che è il vostro giudizio comune. E per favore. Abbiamo bisogno in assoluto proprio del punto di vista dell'opinione di ognuno del singolo. Per favore. Perché quando noi ci mettiamo d'accordo tra di noi, arriviamo a metterci d'accordo tra noi, e facciamo sempre così, che ognuno fa un passo indietro su qualcosa, ma noi perdiamo la massima di cose che avete rinunciato per mettervi d'accordo con l'opinione dell'altro. Perciò, prego, proprio quello che ognuno, che voi, pensate a. è una situazione. Perciò, prego, prego. In la situazione di volvo, perché è stato stato una situazione con una situazione di una situazione del marco di giudizio. La которая parola della fine, è stata d'accordo di essere un lavoro della buonanza. In questo caso sono relazionata dalla situazione della situazione del marco di giudizia. Ma forse che lui si è spaventato quando ha visto il cane, per capire meglio quello che ha detto. Non, non è il cane. Quando è venuta a casa, e non è ancora il cane, non è ancora il cane. Quindi, il cane potrebbe essere un'occhiaire, che è un'occhiaire, perché è un'occhiaire di ogni giorno. Un'occhiaire di un'occhiaire. Grazie. Io ho vedo il fatto che in atmosfero, dopo che lo sceglie, che si è stato spaventato, si è stato spaventato il suo straccio, il suo straccio è molto riduciato. Quindi, un'occhiaire di un'occhiaire di un'occhiaire di un'occhiaire. Grazie. 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 Grazie stra Quando, dopo questa incertezza con qualcuno, si può diventare un po' di potenza, si può diventare anche un po' di potenza. Voi chiedere un po' di domanda, che voglio chiedere un po' di domanda, Il mesele che si chiama il mesele, con il corno. Il mesele che si chiama il mesele, perché non lo sollevano, non lo sollevano, non lo sollevano, Non è vero, quindi si usa questo termine. O è vero? O è vero? È vero. È vero. E' un altro domicilio. Un altro domicilio. Ho capito di un'altra domanda. 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 E poi, inoltre, si vede la nuova. È un'altra domanda. È un'altra domanda. È un'altra domanda. Ma, a lì, ci ha detto, ma poi scomparve proprio del tutto nel momento in cui mi ricordo il nostro cane Lupetto. Sì, non ci sono problemi. perché sente questa differenza tra il fatto che la paura scompare e il fatto che si riprende completamente coraggio. Ora noi, quasi senza accorgersene, abbiamo fatto una cosa importantissima. Abbiamo iniziato a tornare al testo. E questa è una cosa assolutamente importante in qualsiasi tipo di lavoro comune si svolga. Il momento in cui noi smettiamo di parlare tra noi, dialogare tra noi. Cioè di dialogare in modo che in quel modo quando quello che c'è al centro, il testo, rimane solo un punto di partenza lontano. Ma invece torniamo al testo, iniziamo a tornare al testo per mostrare nel testo quel qualcosa che spiega il nostro giudizio, quello che noi abbiamo visto. Questa è una parte del lavoro importantissima. una parte del lavoro che sorge come spontaneamente quando non appena noi cerchiamo di approfondire, di scendere in profondità nel senso. Da una parte, dall'altra parte che sorge spontaneamente quando noi ascoltiamo tutte le altre cose che vengono dette. Perché allora ci viene, ci sorge l'esigenza di trovare un qualche terreno comune. E questo terreno comune è il testo, è quello che è l'argomento del discorso, l'oggetto del discorso. è quel qualcosa intorno a cui avevamo iniziato la nostra discussione, inizialmente parlando solo tra di noi mentre a un certo punto abbiamo capito che se volevamo che le nostre... quello che abbiamo detto, le nostre parole fossero verificate dovevamo tornare al testo per verificarle. E più parleremo, più continueremo il discorso, più frequentemente torneremo al testo. E allora ecco quello che è accaduto nel momento in cui siamo tornati al testo. E' stata detta una cosa importante che lui aveva scomparsa la paura, aveva perso la paura dopo di che gli era corso incontro il suo cane Lupetto e lì aveva ripreso il coraggio del tutto. Non aggiungo neanche niente ma vi chiedo ancora una volta che rapporto ha questo esattamente in questo ordine con questa storia di forzati, prigionieri forzati e contadini. Forse nel testo c'è una frase che lega letteralmente tra loro queste due storie che sembrerebbero essere assolutamente slegate. Ok, mi sembra che adesso sia il momento giusto per rileggere il testo. Tutto? Tutto. Pratica. Oh yeah. Attenzione. Ci siamo? Sì. 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 Ci siamo? Sì. 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 tutti insieme sul tatalo ubriaco Gazin, per calmarlo e avevano cominciato a picchiarlo. A picchiarlo in modo assurdo, tanto da ammazzare un cammello. Mai si sapevano che questo Ercole era difficile ammazzarlo e perciò picchiavano senza paura. Rientrato, notai in fondo alla camerata, in un angolo su di una brada, Gazin già privo di sensi, che non dava quasi segno di vita. Giaceva lì col tulip addosso e tutti gli passavano silenziosi davanti. Sebbene sperassero fermamente che l'indomani mattina sarebbe ritornato in sé, pure per simili botti non si sa mai, un uomo può anche morire. Arrivai al mio posto di fronte alla finestra con l'inferiata e mi sdraiai supino con le braccia sotto la testa e gli occhi chiusi. Amavo star così, perché uno che dorme lo si lascia tranquillo e intanto si può sognare e pensare. Ma non mi venne fatto di sognare, il cuore batteva inquieto e negli orecchi risuonavano le parole di un sì. Je l'ai, c'est brigant. Del resto, perché descrivere queste impressioni? Anche adesso, a volte, io sogno quel tempo e non ho sogni più tormentosi di questi. Forse qualcuno avrà notato che fino a oggi io non ho mai parlato pubblicamente della mia vita all'ergastolo. Le memorie di una casa di morti, io le scrissi 15 anni fa, in nome di una persona inventata, di un delinquente condannato per uccidio. A questo proposito noto, tra parentesi, che ancora oggi molti pensano e dicono che io fui deportato, però avevo ucciso mia moglie. A poco a poco riuscii ad estragniarmi e impercettibilmente mi sprofondai nei ricordi. Durante i quattro anni di ergastolo non facevo che pensare continuamente al mio passato e nei ricordi rivissi tutta la vita ad una volta. Questi ricordi sorgevano da sé. Solo raramente li rievocavo per mia volontà. La cosa aveva inizio da un punto qualunque, da un particolare e spesso insignificante e poi, a poco a poco, si formava un intero quadro, un'impressione forte e completa. Analizzavo queste impressioni, aggiungevo nuovi tratti a quello che avevo da tempo vissuto e soprattutto correggevo. Correggevo continuamente il quadro stesso. Ciò formava il mio divertimento. Questa volta, chissà perché, mi ricordai a un tratto di un momento insignificante della mia prima infanzia, di quando avevo solo nove anni. Un momento che sembrava del tutto dimenticato, ma allora amavo in particolar modo i ricordi della prima infanzia. Mi ricordai del mese di agosto, nella nostra campagna. Un giorno secco e chiaro, ma piuttosto freddo e ventoso. L'estate era alla fine e ben presto avremmo dovuto ritornare a mosche ed annoiarci tutto l'inverno con le lezioni di francese. E io soffrivo tanto a lasciare la campagna. Andai dietro l'aria, mi calai nel burrone e risalegli la fitta boscaglia dei cespugli che si stendeva dall'altra parte del burrone fino al boschetto. Mi inoltrai sempre più nella boscaglia e sentii come, non lontano, a trenta passi da me, nella radura, un music che stava arando. Io so che gli ara intorno alla collina e il cavallo avanza a fatica e di tratto in tratto arriva fino a me il grido, nu, nu. Io conosco quasi tutti i musichi, ma non so chi di loro stia arando ora e non me ne importa, sono tutto immerso nel mio lavoro perché anch'io sono occupato. Sto preparando un frustino di noce per frustrare le rane. I frustini di noce sono così belli e così fragili per niente da paragonare a quelli di Betulla. Mi tengono occupato anche gli insetti, gli scarabei, ne fu a collezione. Ce ne sono di molto carini, amo anche le piccole agie lucertole giallorosse, con le macchioline nere, ma dei serpenti ho paura. Del resto di serpentelli ne capitano molto più raramente delle lucertole. Funghi ce ne sono pochi. Per trovare funghi bisogna andare nel boschetto di Betulle e proprio là non ci voglio andare. Niente, nella vita amavo quanto il bosco con i suoi funghi e le sue bacche selvatiche, con i suoi insetti e uccellini, i suoi ricci e scoiattoli e quell'umido profumo tanto caro di foglie marcenti. Anche adesso, mentre scrivo, mi parli sentir l'odore del nostro boschetto di Betulle. Sono impressioni che restano per tutta la vita. A un tratto, in mezzo alla profonda calma, sentii chiaro e distinto il grido. «Vieni il lupo!» cacciai un urlo e fuori di me dalla paura, gridando con tutta la mia forza, corsi sul prato, direttamente verso il music che era. Era questi il nostro music Mariei. Non so se esiste un tal nome, ma lo chiamavano Mariei. Un contadino sui cinquant'anni, forse, abbastanza alto, con molti peli bianchi nella folta barba, di un colore castano scuro. Lo conoscevo, ma fino ad allora non avevo avuto quasi mai occasione di parlare. Egli fermò la cavallina, udendo il mio grido, e quando io, di tutta corsa, mi afferrai con una mano al suo aratro e con l'altra una manica, beh, notò il mio spavento. «Viene il lupo!» gridai al simando. Egli alzò la testa e si guardò involontariamente attorno, credendomi per un istante. «Dov'è il lupo?» «Hanno gridato! Qualcuno ha gridato! Viene il lupo!» balbettai. «Ma no, ma no, ma che lupo? Ti è sembrato, vedi? Che lupo può esserci qui?» disse egli in fretta per farmi coraggio, ma io tremavo, tremavo tutto e mi attaccai ancora più forte alla sua giacca e probabilmente ero molto pallido. Egli mi guardava con un sorriso inquieto, evidentemente intimorito ed allarmato per me. «Come ti sei spaventato, eh?» e scosse la testa. «Basta, caro, via, ragazzino, eh!» tese la mano e mi accarezzò la guancia. «Beh, basta! Che Cristo sia con te! Calmati! Fate il segno della croce!» Ma io non mi feci il segno della croce, mi tremavano gli angoli delle labbra e a quanto pare questo lo colpì più di tutto. Egli stese ad agino il suo grosso dito con l'unghia nera di terra e toccò delicatamente le mie labbra che sussultavano. Ma guarda un po', mi sorrise con un sorriso lungo e materno. «Signore, ma cos'è, eh?» Compresi finalmente che il lupo non c'era e che il grido «Viene il lupo?» me ne ero immaginato. Il grido del resto era stato così chiaro e preciso, tali gridi, ma non soltanto per i lupi, mi era sembrato di dirli già due o tre volte prima e lo sapevo. Poi con l'infanzia passò. «Beh, ora vado», dissi, guardandolo con un timido sguardo interrogativo. «Va, io ti guarderò, non ti darò al lupo, sta tranquillo», aggiunse sorridendo, sempre maternamente. «Che Gesù sia con te, va!» e fece il segno della croce su di me e su se stesso. Andai via, voltandomi indietro quasi ogni dieci passi e Mariei, mentre mi allontanavo, stava sempre lì con la sua cavallina e mi guardava, facendo un segno con la testa ogni volta che mi voltavo. Confesso che mi sentivo un po' mortificato davanti a lui per essermi tanto spaventato, ma camminavo temendo sempre un po' il lupo, finché non lasciai la collinetta del burrone, fino al primo granaio. Qui la paura scomparve completamente e a un tratto, chissà di dove, mi si gettò incontro il nostro cane da guardia, Volchok. Con Volchok mi feci coraggio del tutto e mi voltai per l'ultima volta verso Mariei. Non potevo più distinguere bene il suo viso, ma sentivo che egli continuava a sorridermi affettuosamente e a far cenni con la testa. Gli mandai un saluto con la mano, anche lui mi salutò con la mano e mosse la cavallina. «Nu, nu!» si udì di nuovo. La sua voce da lontano e la cavallina tirò di nuovo l'arratro. La cosa mi venne in mente tutta un tratto, non so perché, ma con sorprendente precisione di dettagli. A un tratto tornai in me e mi sedetti sulla panca e, rammento, sentii sul mio volto il dolce sorriso del ricordo. Per un istante, ancora, continuai a ricordare. Allora, tornato a casa, non raccontai a nessuno della mia avventura. E in realtà, quale avventura? Anche Mariei. Mi scordai presto, allora. Incontrandolo in seguito qualche volta non gli parlai mai, e non soltanto del lupo, ma di niente in generale. E improvvisamente, vent'anni dopo, in Siberia, mi ricordai del nostro incontro con tanta chiarezza. Vuol dire che esso era rimasto nel mio animo, così, da sé, senza volontà da parte mia, e il ricordo era tornato quando occorreva. Mi ricordai del dolce sorriso materno del povero Muzic, servo della gleba, dei suoi segni di croce, dei suoi cenni col capo. Ma guarda come si è spaventato il ragazzino, e particolarmente quel dito grosso, sporco di terra, col quale dolcemente e con timida tenerezza egli aveva sfiorato le mie labbra tremanti. Certo, chiunque avrebbe fatto coraggio a un bambino, ma qui, in quell'incontro solitario, pareva essere accaduto qualcosa di completamente diverso, che se fossi stato suo figlio, egli non avrebbe potuto guardarmi con uno sguardo splendente di un amore più sereno. Chi l'obbligava? Egli era un nostro servo. Io ero il suo signorino. «Nessuno avrebbe mai saputo come egli mi aveva carezzato, e non l'avrebbe ricompensato per questo». Amava forse tanto i piccoli bambini? Esiste gente così. L'incontro era avvenuto in un campo deserto, e forse soltanto Dio aveva visto di lassù di quale sentimento profondo, illuminato e umano, e di quale delicata, quasi femminile tenerezza, poteva essere colmo il cuore di un music russo, rosso e bestialmente ignorante, il quale, allora, non aspettava e non prevedeva neppure la propria libertà. Dite, non è questo che intendeva dire Costantin Aksakoum parlando dell'alta cultura del nostro popolo? Ed ecco, quando mi alzai dalla branda e mi guardai attorno, lo ricordo bene, senti a un tratto di poter guardare quei disgraziati con uno sguardo diverso, e che d'improvviso, per un miracolo, erano scomparsi completamente ogni odio e ogni cattiveria dal mio cuore. Andai fissando le facce che incontravo. Questo music rasato, svillaneggiato, ubriaco, con le cicatrici sul viso, che urla la sua canzone rauca ed ebra, potrebbe essere lo stesso a Mariei. Non gli vedo certo del cuore. La sera stessa incontrai di nuovo, sì, disgraziato. Egli certo non avrebbe potuto avere il ricordo di un qualsiasi Mariei. Non avrebbe potuto avere altra opinione di questa gente che quella espressa «je è se brigò». Questi polacchi dovrebbero soffrire allora assai più di noi altri russi. Grazie. Я повторю свой вопрос. Итак, какое отношение имеет история tra la storia tra il lupo e il cane, lupo e lupetto, con la storia tra il contadino e i forzati, i prigionieri. E una seconda domanda. Non vi sembra, forse, che dopo la seconda lettura vi manca qualche informazione, che potrebbe aiutarevi. Se sì, se pensate che vi manca qualche informazione, potete chiedere. Sì. 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 E' un filosofo, uno slavofilo. E si parla di lui proprio prima di questo racconto. In che senso prima di questo racconto? Questo racconto fa parte del diario di uno scrittore di Dostoevsky. E' un racconto che è inserito in un testo, e quindi in un determinato modo questo racconto è legato a quel testo. Il capitolo prima di questo racconto. Nel capitolo precedente Dostoevsky sta discutendo del fatto che c'è un disaccordo tra quello che afferma lui e quello che afferma Costantino Aksakoff. Perché Dostoevsky dice nel numero precedente della rivista, del diario di uno scrittore, Io avevo scritto, dice Dostoevsky, che il nostro popolo è rozzo e ignorante, che è dedito al buio e alla perdizione, e un barbaro che aspetta la luce. E' un barbaro che aspetta la luce. Mentre ho appena letto in un articolo del defunto Costantino Aksakoff, che il popolo russo, invece, è già da molto tempo, che è illuminato e istruito. E quindi mi ha forse messo in confusione questa contraddizione? E risponde per niente, perché io è molto tempo che condivido questa stessa opinione, sono d'accordo con lui, questa stessa opinione di Costantino Aksakoff. La cosa che mi stupisce di più, dice Dostoevsky, è il fatto che per me qui in questo non c'è proprio nessuna contraddizione. E per molti miei lettori è sembrato che ci fosse proprio una contraddizione irrisolvibile. Dopodiché dice alcune frasi che per noi sono molto importanti. Parla del fatto che nell'uomo russo del popolo semplice occorre saper distinguere quella che è la bellezza, la sua bellezza, la bellezza di questo popolo semplice, da una barbaria che gli è appiccicata sopra in superficie. Dopodiché dice, è evidente che nell'uomo ci sono come tre strati. e la terza cosa dice la bellezza di questa immagine. Ed è come se l'uomo rimanesse uomo davvero uomo quando conserva in sé non solo la sua immagine umana ma anche la bellezza di quella immagine. Allora, adesso con queste nozioni in più che abbiamo guardiamo ancora il racconto Come stanno insieme tutte queste storie diverse che a prima vista sembrerebbero staccate? Prego 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 Per questo la sua immagine che si 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 Che Hamm 없는 donde dice? Come che rituiti d'immig冒d si può essere un pollo un'aracchia russi, un'aracchia in gruva e una vera, che non potrebbe capire, che potrebbe essere stato liberato. Quindi, come vedo l'opera di un'opera di un'opera di un'opera di un'opera di un'opera di un'opera. di un personaggio che non ci sono state di scuola, è stato sviluppato da scuola. Ora in una situazione di scuola, è necessario per vedere un personaggio, che, ovviamente, il personaggio che è stato bello, se non ci fosse necessità di protegireci da loro. e per questo personale potrebbe parlare potrebbe essere proprio lui che mi riuscirà da me da il страх e per questo non è solo il sofradamento ma il suo bisogno per che lo riuscirà da questo страх ecco perfetto io sento che siamo già con voi adesso прямо подходiamo ad ora per vedere questo il suo pieno sento che insieme stiamo già arrivando proprio alla possibilità di vedere il racconto nella sua pienezza abbiamo ancora 5 minuti in cui potete dire qualcosa a voi perché poi invece proverò io a darvi una visione piena complessiva una visione a cui noi indubbiamente per me già chiaro dalle cose che state dicendo potremmo arrivare come in conclusione di un lavoro fatto insieme comune se avessimo più tempo di fare questo lavoro perciò perciò diamo ancora 5 minuti alle vostre osservazioni quindi e ora diciamo questa cosa che allora osservazione è il testo precede sempre con sesi interpraspione il testo sempre precede l'interprezione e seguire e pregistee indipendentemente dalla natura che è precede l'interprezione Il nostro effetto è tutta la realità, la merza, il mondo, il femminio è più grande e non finisce sempre più grande e non finisce mai. quando. Я читare le tese reali del mondo. Tretto замечario, che non tutte le interpriezioni sono un'interpriezioni. C'è un interpriezioni che è più veloce, più poli, più veloce, più veloce, più veloce, più veloce. E' proprio da questa centralezza del tese, del fatto reale. Grazie. Grazie. Prego. mi piace molto, mi piaceva la frase, che la ricordazione è arrivata quando è necessario, perché c'è diversi livelli in questo discorso. In all'inizio Dostoevsky, mi sembra che vuole dire dire al momento, quando era 9 anni, e questa è stata un'altra attenzione. Io ti raccomando un'anegdota, un'anegdota, che si stia lasciando un giorno, non è stata una cosa che mi piaceva, si stia a parlare di un sacerdote, e si stia il momento di liberare, si stia la maggioranza di più, non è che il suo senso che il suo senso in questa situazione, non c'è un senso, perché gli autori stanno sentire, si stia a scoprire, si stia a scoprire, perché gli autori, che ti sembra che ti spi, quindi ti non mi permesso. E lui volta a questo momento di ottenimento e di ottenimento, quando lui ha trovato a questo personaggio, a quello che lui ha aspettato, e lui volta a questa storia e ha detto che questa situazione ha permesso di vedere gli altri. Come si diceva, che lo stesso è quello che sia nel fatto che è stato un'esplice, che è stato un'esplice che è stato un'esplice, che è stato un'esplice, che è stato un'esplice, che non è stato un'esplice, e non è stato capace, come poter essere sentito, ascoltare musica, che ha spostato la musica in turchia, poi ricevono le letture, guarda che bisogna aspettare 20 anni. Perché avevamo questo personaggio dentro, che nessuno non poteva farlo, anche nei momenti di più. Grazie. Un'altra minuta. Un'altra minuta. Io ho scoperto di Francesco su cui ha fatto il problema di più di loro. Io ho interpretato questo anche come. Io ho conosciuto quasi tutti i nostri ragazzi, ma non ho conosciuto, ma non ho conosciuto, ma non ho conosciuto. nero, perché non lo conosco, ma perché è stato un po' come è stato, non rispetto alla sua parte. E mi sembra che è stato così, che quando è stato un po' piccola, è stato un po' piccola dentro di ogni persona, ma poi, con il tempo, è stato un po' piccola e iniziato a tornare la visione. Quindi per lui è stato un personaggio come così, non un personaggio speciale. Grazie. C'è un'altra cosa? No, bene. Che è la seconda festa di Pasqua? La seconda festa di Pasqua. E' un errore di traduzione. Perché sarebbe il secondo giorno in cui si festeggiava la Pasqua. E' una domanda molto importante. Perché se non ci accorgiamo del periodo, del tempo in cui tutto questo avviene, perdiamo una parte molto grande del senso del testo. Allora adesso facciamo così che parlo un po' io. Perché voi siete stati bravissimi, proprio incredibilmente. Incredibilmente, sì. E siamo quasi arrivati proprio già alle conclusioni. Penso che avendo più tempo per il lavoro sareste potuti arrivare a tutte le conclusioni. Ma per non dimenticarlo dico subito due parole su quanto è stato detto sui principi di approccio al testo. Niente, avvicinato. Ok. Mi è piaciuto molto tutto quello che è stato detto. A me è piaciuto molto tutto quello che è stato detto. E' stata detta la questione della differenza delle diverse possibili interpretazioni. Che ci sono delle interpretazioni più chiare, più precise, che colgono di più il centro. E magari anche forse una interpretazione. Ma io vorrei farvi notare che nel processo del lavoro che abbiamo fatto insieme non è stata fatta nemmeno un'osservazione che non sia servita all'interpretazione comune. Cioè, l'idea che esistono molte interpretazioni non va assolutamente a contraddire l'idea che esiste una interpretazione e che questa interpretazione è quella adeguata. Ma solo se noi, invece di scegliere tra le interpretazioni, le sommiamo e le consideriamo tutte facendo allo stesso tempo riferimento alla realtà del testo. perché non appena è proprio il testo stesso a diventare il centro del nostro dialogo, tutte le interpretazioni in questione diventano assolutamente verificabili. Perciò noi non abbiamo affatto la necessità di dire questa interpretazione è più, si avvicina di più, è più simile, è meno. Perché c'è un'interpretazione che spiega un determinato numero di fattori e una determinata configurazione. Ma se un'altra persona aggiunge un'altra interpretazione in cui vengono dati come complementari altri fattori oppure anche gli stessi fattori ma in una configurazione diversa questo non toglie l'interpretazione di prima, ma la completa. Questo è proprio come un altro approccio al lavoro con le diverse interpretazioni che nasce dalla presa di coscienza del fatto che ognuno di noi vede in modo diverso. Dostoevsky dice che adesso racconterà una storia ma subito si interrompe e dice che all'inizio racconti un'altra storia. E questo già ci mostra che dovremmo essere molto attenzione con gli autori dentro di questo molto piccolo testo. Questo subito ci mostra che noi dovremmo fare molta attenzione ai passaggi, agli spostamenti che fa l'autore all'interno di questo testo che è un testo molto breve. Il primo di questi spostamenti è quello che Dostoevsky dice che io, se vi ricordate, non avevo mai parlato della mia vita ai lavori forzati. nel libro perché il libro «Memorie da una casa morta» l'ho scritto molto tempo prima ed è un testo che ho scritto nella persona cioè il narratore era un personaggio di invenzione. e poi Dostoevsky mi hanno scambiato con questo mio protagonista narratore di quell'opera chiedendo a me se non ero stato forse io quello che aveva ucciso sua moglie e per cui era finito lì ai lavori forzati. che cosa ci sta comunicando qui Dostoevsky? ci sta dicendo innanzitutto il fatto che qui è la prima volta che lui prende la decisione di parlare di quella esperienza che si era portato dentro, portato via dai lavori forzati. perché prima non aveva quasi mai parlato ed ecco che finalmente decide di parlarne e allo stesso tempo aggiunge ancora un contesto perché pur facendo così ricorda ai lettori l'altro suo testo che è queste memorie di una casa morta e questo è importante come minimo per questo perché la festa di Pasqua nelle memorie di una casa morta era stata una festa che quasi non si era neanche notata in quel testo Dostoevsky invece aveva raccontato in modo molto dettagliato di come era stato festeggiato il Natale ed era stata una storia completamente diversa qui finalmente per la prima volta racconta dei festeggiamenti di Pasqua ma avendo citato le memorie di una casa morta lui inserisce qui anche questo contesto del Natale poi c'è una seconda digressione che viene quasi subito e l'avete anche già notata e riguarda il come il prigioniero il forzato Dostoevsky ma anche il Dostoevsky scrittore lavorare con le sue impressioni lavorare con le sue impressioni come un certo compare una qualche trattino che poi dopo si ingrandisce aumenta e si trasforma in un ricordo intero e poi dice ho dato tratti nuovi a qualcosa che avevo vissuto molto tempo prima e la cosa fondamentale è che lo correggevo lo correggevo insancabilmente cioè dice che dava al passato dei tratti nuovi ma questi tratti nuovi erano delle correzioni dei suoi ricordi cioè se alcuni tratti non aiutavano in manifestarsi del senso vero di quegli avvenimenti che Dostoevsky stava raffigurando lui li correggeva in modo da da far sì che il loro senso vero si mostrasse cioè in questo modo Dostoevsky ci spinge ancora una volta a capire che noi possiamo possiamo siamo in grado di capire il testo il suo testo esattamente così come lui l'aveva pensato perché lui aveva corretto tutto quello che non corrispondeva alla sua visione poi quando dice lui inizia il racconto dicendo avevo 9 anni non è meglio che all'inizio io racconti di quando avevo 29 anni cioè come se mettesse un racconto al centro di un altro racconto e questo lo fa sottolineandolo cioè ci fa vedere non possiamo non vedere che sta facendo così quindi la parte esterna allora sarà il racconto di quando aveva 29 anni mentre all'interno c'è il racconto di quando aveva 9 anni e questo va messo in rapporto con quelli strati dell'immagine dell'uomo di cui aveva scritto nel capitolo precedente cioè lui in quel momento nei suoi 29 anni si imbatte incontra questo primo strato quello di superficie la barbarie sovrapposta e quello strato gli sembra così tremendo che uccide quasi rende non uomini le persone che si trovano davanti agli occhi non a caso continuamente si ricorda questo polacco mski con le sue parole le parole che sono in francese nel testo come odio questi briganti una parola che sono supremamente alienante allontanano le parole come se costruissero una parete tra gli uomini un divisorio e non non dobbiamo dimenticare che è sempre il tempo di Pasqua è Pasqua sempre il secondo giorno di Pasqua si è già celebrata la Pasqua è il secondo giorno in cui Cristo già è risorto e lui è come se si sbattesse la faccia contro questa tomba in cui sono chiusa la tomba di questo infertore di questa barbarie sovrapposta in cui sono racchiuse le persone che ha intorno perché è proprio questa loro immagine esteriore che copre continuamente nascondendole tutte quelle persone ed è allora che inizia a ricordare di quando aveva 9 anni ed è allora che inizia a ricordare di quando aveva 9 anni ed è ancora molto importante ma prima di tutto che è importante che lui mostre se stesso nella sua non essere chiusa nella sua infantile apertura al mondo è come se mostrasse proprio innanzitutto questa sua interiorità su cui poi era cresciuto qualcosa nei suoi 20 anni successivi quindi lui innanzitutto qua è come se liberasse se stesso quella sua infantilità interiore da tutto quello che era stato sovrapposto poi successivamente cioè esistono delle cose che noi non vediamo non perché ce le nasconde quella fango sovrapposto che riveste, ricopre gli altri fuori da noi ma ci sono cose che noi non vediamo perché sono coperte da quel fango esteriore che ha rivestito noi e allora muovendosi verso questo qualcosa che c'era nella sua infanzia che era al centro del suo essere lui ricorda l'incontro che come voi avete detto in modo già assolutamente corretto innanzitutto è stato l'incontro con la paura con la paura che in fin dei conti è la paura della morte perché di fatto davvero per un lupo quel bambino è semplicemente cibo e lui era proprio in quella condizione di sentirsi quasi cibo che si sentiva anche davanti a quei briganti, a quei criminali nella prigione a cui non sapeva dove andare a nascondersi e allora ricorda quell'incontro e dopo di che pronuncia un nome pronuncia un nome e dice non so neanche se questo nome esista perché nella lingua russa non esiste la forma maschile del nome Maria e allora Dostoevsky che inventa questo nome che non esiste ci aveva promesso che avrebbe corretto che avrebbe aggiunto dei tratti di modo da farci vedere in modo più chiaro e così davanti ai nostri occhi compare questo contadino che da una parte fa questo lavoro che è il lavoro maschile più faticoso e ora insalita sul monte e tra l'altro se guardare dove viveva dove era la tenuta di Dostoevsky non c'era un posto dove si poteva arare impendenza e probabilmente lui stava arando in pianura in un altro senso qui nel testo è detto che stava arando in pendenza in un altro senso perché questo salire e elevarsi è sempre associato a un movimento spirituale e qui in un piano profondo si sta parlando come abbiamo visto nell'introduzione della situazione spirituale del popolo russo ecco lui in questo arare impendenza sul monte sta lavorando sia con la terra che con la sua interiorità quello che vede dentro di sé e qui il contadino è descritto aveva 50 anni era in carne era alto robusto come proprio l'espressione Esprimeva bene una certa viridità, mascolinità della terra. Aveva questo dito sporco di terra. E con questo dito sporco di terra. Ed è con quel dito sporco di terra che lui teneramente, femminilmente, accarezza l'angolo delle labbra, della bocca del bambino. Prima è stato chiesto se era a caso che nel testo compare questa parola, quella che è al posto di caro, che ha a che fare con la stessa radice di partorire. E' chiaro che non è casuale, perché è la scelta l'autore. Cioè qui, in questo contadino, robusto, con la barba. Attraverso questo nome Mariei, che è un nome che non esiste. Attraverso il continuo ripeterse delle parole, una tenerezza quasi femminile. Che è quello che Dostoevsky definisce come la bellezza dell'immagine. E qui accade una cosa estremamente interessante. Perché Dostoevsky, a mio avviso, è il miglior teologo russo. Ma il suo modo di fare teologia è attraverso i suoi propri strumenti del mestiere. E qui non ci mostra solo come noi, di colpo, iniziamo a vedere l'immagine di Maria attraverso questo rotto contadino. Ma Riesveglia, come nella nostra coscienza, chi è Maria. Per rispetto al figlio di Dio. La parola usata nel testo in italiano, io sono il signorino, il suo signorino, rende ancora meglio l'idea che quella che c'è nel testo russo. E' un'idea assolutamente evidente. Ma il слово in italiano è addirittura più precisa. Perché è un diminutivo di signore. E davvero qui, da questo contadino, va il suo signorino. E Dostoevsky ci mostra nella distanza che c'è tra questo rotto ignorante contadino e il suo signorino. Anche quella che è la distanza tra la rozza natura umana e il Dio che scende, si abbassa fino a lei, mettendosi sotto la sua protezione. Perché noi dimentichiamo continuamente questa distanza. Il fatto che qualcosa di sottomesso, di basso, prende su di sé il compito di occuparsi, di proteggere qualcosa di potenzialmente più forte. Qualcosa di potenzialmente più grande, di più elevato, ma che in quel momento è debole e come è perduto. E Dostoevsky fa, rende questa immagine come si può commutare, trasformare. Noi, allo stesso tempo, ricordiamo la madre di Dio che accoglie qualcosa che è incommensurabile rispetto a lei. Ma vediamo allo stesso tempo anche questo schiavo, questo qualcuno di sottomesso che che accoglie il suo signorino come qualcuno di cui si preoccupa con tenerezza materna. Ed è proprio attraverso quello, facendo così, che smette di essere schiavo. Cioè, questa è per Dostoevsky la chiave a qualsiasi immagine umana. La capacità di chi è più in basso di accogliere, di accettare, magari anche senza capirlo, questo qualcuno di più grande e di accettare, in fin dei conti, di accettare dalla morte. Perché per il bambino il lupo è evidentemente la personificazione dell'avvicinarsi della morte. E questa capacità di chi è più in basso di essere il punto di appoggio e una capacità di educare chi è più grande è una cosa che subito ripone chi è più in basso allo stesso livello di chi è più in alto. Questo riscrivete in questo modo tutti i potenzii e anche i potenzii dell'avvicinarsi. Perché subito rispalanca tutta la potenzialità sia umana che perfino sovra umana. Perché è proprio l'accogliere Dio e l'occuparsi di Dio che rende Maria, una donna, la regina del cielo. E in questo caso è proprio l'accogliere uno piccolo e senza impotente che però in potenza non solo era il suo signorino ma era il suo padrone cioè era quel qualcuno che di per sé lo privava della sua immagine umana lo rendeva schiavo. E allora proprio questa capacità di accogliere e di difendere che rende questo contadino, rozzo e bestialmente ignorante lo rende un qualcuno di infinitamente illuminato e lo rende quasi femminile affinché noi non perdiamo il nesso che c'è tra il contadino Mariei e Maria. E allora adesso questo lupo morte che non c'è perché lui semplicemente aveva sentito il suono un suono che gli era arrivato ma che non c'è niente che lo confermi in compenso c'è quello che c'è è il suo cane lupetto che come già stato molto giustamente fatto notare non solo elimina gli ultimi rimasugli della paura quelli erano già stati eliminati e proprio il fatto che quei rimasugli di paura erano già stati annientati è quello che gli permette di incontrare invece di un nemico che non esiste un amico che c'è che cosa ne risulta che si può fuggire, scappare da un nemico si deve scappare da un nemico non all'indietro, non scappando da ma verso, in nella profondità sua non a caso lo ricordiamo Dostoevsky nel momento in cui sente quelle parole quando sente le parole come odio quei briganti che si sono andati vittorna indietro nella caserma nella baracca da cui era scappato cioè ritorna là da dove era appena fuggito per la paura ed è proprio lì che recupera questo suo ricordo un ricordo che innanzitutto trasfigura il suo modo di vedere che gli lava via come dagli occhi la patina di quei vent'anni di fango sovrapposto che le nascondevano le cose e allora capisce che esattamente come nel caso del lupo fuggire dal lupo e non fuggire da ma verso, in allo stesso modo capisce che nel rapporto con tutti quei briganti bisognava scappare non da loro ma verso la loro interiorità in attraverso tutto quel fango quello sporco che si era già sovrapposto alla loro immagine per riuscire ad arrivare a vedere dentro di loro quel contadino Mariei e dentro di lui la stessa Madonna c'è che ogni persona è qualcuno che per chiunque lo guardi con sincerità con onestà o che guardi con coraggio ognuno può condurre alla scoperta più incredibile di quello che c'è dentro di sé ma per questo occorre avere un'esperienza perché se il polacco Mcki non aveva quell'esperienza se lui non aveva fatto un incontro non avendo fatto quell'incontro lui soffriva sia per il fango sovrapposto su di lui sia per quello che vedeva sugli altri e per lui questa era una sofferenza assolutamente insostenibile e soprattutto infinita perché non aveva la possibilità di andare come oltre spaccare come il confine lo spessore di questo fango sovrapposto ma in realtà questa possibilità c'è perché c'è il racconto dove un uomo esiste questo racconto in cui una persona un uomo racconta delinea la storia di questo suo incontro e l'arte è una cosa che è in grado di trasmettere l'esperienza in assenza di esperienza cioè noi quando leggiamo questo testo questo racconto riceviamo non una conoscenza un sapere una nozione su qualcosa ma viviamo questa storia insieme ai suoi personaggi protagonisti e nello stesso tempo facendo così riceviamo quell'esperienza che si trova all'interno di questo racconto quindi Dostoevsky scrive questo racconto con lo scopo di cambiare il modo di guardare del lettore cioè per dare al lettore una esperienza almeno iniziale vedete in grado qual'esperienza quella di vedere nell'altro qualcosa che di solito gli è nascosta da che cosa innanzitutto da quello strato che copre riveste i suoi propri occhi perché noi da quando cresciamo dai 9 anni in più di noi si sovrappongono degli strati cresce del cinismo nedoveria cresce la sfiducia cresce l'idea il presuppone che gli altri agiscano nei propri interessi e non nei nostri il desiderio che gli altri agiscano nei nostri interessi e moltissimo altro si potrebbe continuare dall'altra parte gli altri in qualsiasi momento possono come girarsi verso di noi mostrandoci i loro aspetti più brutti e da questo incontro tra questi due strati il nostro e degli altri che ne derivano una visione della vita come di qualcosa di brutto tremendo e così noi non riusciamo a trovare il punto di accesso in quella luce senza fine che c'è dentro ogni uomo a me sembra che il tentativo che abbiamo fatto di lavorare insieme il momento in cui vediamo che le affermazioni degli altri che anche se sono diverse le affermazioni diverse che ognuno di noi fa non disturbano non impediscono anche se a noi sembra che magari uno o un altro stia dicendo qualcosa che non va bene o che è proprio sbagliato che è proprio l'opposto di quello che pensiamo noi ecco questo lavoro insieme e il messaggio che c'è dentro questo racconto di Dostoevsky queste due cose siano molto coincidenti se noi non ci schermiamo e non ci togliamo di qui non andiamo via ma se al contrario andiamo avanti e verso l'interno cosa vuol dire andiamo avanti andiamo dentro anche dentro le affermazioni degli altri che ci sembrano non adeguate noi capiamo che facendo così capiamo che dentro lì possiamo trovare molto di più di quello che avevamo paura di perdere non abbiamo già più tempo ma abbiamo un minuto quindi se ci sono domani possiamo e abbiamo un minuto perciò se avete domande e desiderate farle potete farle allora vi ringrazio per il lavoro di oggi portiamo le cose per bene innanzitutto vogliamo ringraziare per l'attenzione la traduzione e la conduzione che ci ha condotto grazie Elena Elena Mazzola e adesso risottolineiamo perché ci ha dato dei momenti veramente di profondità di scoperta e di quanto ci ha fatto capire quanto un testo possa avere delle profondità e delle interpretazioni sempre maggiori nell'includere tutto grazie grazie tantissimo Tatiana grazie tante un grande applauso poi concedetemi due minuti che sono molto importanti innanzitutto ci sono dei libri allora qualora fossero interessati perché c'è una bellissima versione l'impresa